Si aprono le barre Antonio, cosa ne pensi di queste persone? Vabbè io ci volevo riaprire da proprio Ma io allora la salita è così Però, se tutto va così Ragazzi, questo è per YouTube E mi vanno tutti quelli che ci conoscevano Allora, vedi, quando parliamo di casa E prepariamo la salita Oh, vai, mi pensi, mi pensi Eh, comunque mi vuoi riaprire Devo uscire, vieni più, 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 più Pio, piada, più, piada, più Oh, 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 mi voglio Iniziamo a corrare qua Oh, oh, vai giù Oh, vai giù Oh, 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 oh Oh, 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 oh No! 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 No!